50 studenti di un istituto tecnico padovano a Campodarsego, ingegneri di Firenze e Camposampiero, sono le visite guidate e compiute in questi giorni agli impianti dietra. A Campodarsego, gli studenti sono stati accompagnati nell'impianto di selezione di carte e cartone, dove ogni anno vengono selezionate oltre 25.000 tonnellate di rifiuti cellulosici provenienti dalla raccolta differenziata del territorio, con un recupero del 99%. A Camposampiero, i tecnici del settore iscritti all'ordine degli ingegneri di Firenze hanno visitato il centro di biotrattamento, costituito da un depuratore di acque refle urbane e da un impianto per la produzione di biogas destinato all'agricoltura.